Dice ma tanto lo dici tutte le sere Pure se gioca la pro caccolese Con la pro scureggese Lo dici sempre Lo devo ribadire Io non posso credere A quello che cazzo Ho appena visto questa sera Per tutto quello che è successo Non solo questa sera Ribaltoni e contro ribaltoni Clamorosi in situazioni Veramente inaspettate Ma anche per quello che era successo Nella partita di andata Dove l'aveva spuntata Ve lo ricordo e ribadisco La Fiorentina Ma stasera ragazzi Queste sono le partite che mi fanno Veramente amare incondizionatamente il calcio Sono qui per commentare Tutto quello che è successo Come sempre con il mio puro e semplice parere personale Chiedo scusa se mi fomento Ma mi piace troppo Vede partite del genere A prescindere da chi se le porta a casa Bentornati e ben ritrovati Allora Una mara di mi piace Ve porto in merito domani Anche il parere del buon Fabio Non ve costa niente lasciar mi piace Soprattutto iscrivetevi E attivate la campanella Resterete sempre aggiornati Ogni volta che pubblico qualcosa Non vi perderete più nulla Ragazzi Se mi seguite spesso Se apprezzate i miei contenuti Se volete bene a me e a Fabio Ancora non l'avete fatto Per favore Iscrivetevi E attivate la campanella È una cortesia che ve chiedo È la cosa più importante Che potete fare per supportarci Due canali di calcio Uno extra calcio In descrizione O come sempre Compariranno qui durante il video Allora Poi vi do anche Una sorta di preview Piccolissima Una provocazione Che vi lancio In vista della finale Ve lo dico tra poco Poi chi lo sa Magari cambierò idea Ma difficilmente Cambierò idea Mi sono fatto Un'idea ben precisa Su quella che potrebbe Essere la finale De Coppa Italia Detto questo Allora Non era facile Per l'Atalanta Per tanti e tanti motivi Perché La Fiorentina È pur sempre La Fiorentina Aveva pur sempre Vinto la partita di andata Qualcuno dirà Eh vabbè Malgewis L'Atalanta È una squadra tosta Da affrontare È una squadra Che ci mette sempre Corpo e anima E poi alla fine Effettivamente è stato così Quello che abbiamo visto Però secondo me ragazzi È veramente È veramente clamoroso È clamoroso perché Gasperini ancora una volta Dimostra ragazzi Di poter contare Eh Più che poter contare Su un gruppo ampio È lui che dà Eh Possibilità A tutti i suoi calciatori Effettivi Di esprimersi Dimostra Che non esistono Didolari Che non esistono riserve Che sono tutti alla pari E che possono Potenzialmente essere Tutti decisivi Allo stesso Da tre quarti in avanti Ovviamente Tutti allo stesso modo Decisivi Quello che abbiamo visto All'interno di questa partita Perché se questa partita L'Atalanta Alla fine se la porta a casa È anche e soprattutto Per i cambi E per le situazioni Che si sono venute a creare Grazie a Gasperini Io voglio comunque Fare i complimenti Alla Fiorentina Per come avevano vinto La partita di andata E per come l'avevano ripresa Nonostante l'inferiorità numerica Questa chiave di lettura Va fatta Perché ragazzi Il miracolo sportivo All'interno della singola partita Stava per accadere Una partita in cui L'Atalanta Parliamoci chiaro Secondo me Non dal punto di vista Del possesso Perché poi alla fine Vi guardo il dato statistico Sì Alla fine è diventato 57 Atalanta Ma perché la Fiorentina Ha giocato un sacco tempo Con espulso C'aveva più possesso La Fiorentina E Fino a un certo punto A fine primo tempo C'aveva anche più conclusioni La stessa Fiorentina Se non Se non mi ricordo male Però ragazzi La Fiorentina Ha fatto qualcosa di clamoroso Atalanta Partita meglio la Fiorentina Atalanta un po' Un po' Così Perché giustamente Sei in vantaggio Nella partita Come se Non ci fossero 90 minuti E altri 90 minuti Come se Adesso Cominciata sta partita Se ripartiva dal minuto 91 Eravamo 0 a 1 Per la Fiorentina Stessa identica cosa Quindi l'Atalanta Che doveva recuperare Fiorentina Che da subito Ragazzi ha provato No primi 7 minuti Veramente a bomba Un paio d'occasioni Atalanta un po' Un po' Così La forza La rabbia La cattiveria Di questa squadra E che alla prima occasione Utile Copmeiner Se la butta dentro Con quel diagonale Ma stasera Bisogna fare complimenti Alla Dea Secondo me Per un motivo Cardine su tutti Poi ovviamente Ragazzi Serve quel passo in più I complimenti veri E definitivi Gli verranno fatti Qualora dovessero riuscire A portarsi a casa Questo trofeo Che secondo me L'era Gasperini In questa Atalanta Meriterebbe Per tutto quello Che ha dimostrato Ma quello che stavo Per dirvi Sta per arrivare L'Atalanta Crede In calciatori A livello di progettualità In calciatori Scarto Di altre realtà Guardate la situazione De Scamacca Guardate la situazione De De Ketelar Guardate la situazione De tanti altri calciatori Questo è un grandissimo merito Perché Giocatori che non c'hanno mercato Giocatori che non vuole nessuno Che non li vuole più Manco la madre Perché ragazzi Lo Scamacca dell'anno scorso Tra un infortunio Una stagione fallimentare De De Ketelar Al Milano Votevo di Ma avete visto Che cazzo gli sta a fare Atalanta Atalanta sta correndo Ancora ragazzi Su tutti e tre Gli obiettivi stagionali La Coppa Italia L'Europa League Perché comunque È diventato un obiettivo Vero e proprio Dal momento in cui Butti fuori il Liverpool E ragazzi Prendese la Champions Ovviamente l'obiettivo Quinto posto Vabbè ormai Perché comunque Te regalerebbe la Champions Cioè Capite quello che sta facendo L'Atalanta Scamacca stasera ragazzi Veramente da pelle d'oca Permettetemi di dirlo Vedendo questa partita Io rimpiango Che Poteva diventare Un calciatore Era nostro Primavera Poi situazione Io rimpiango Di non avere ad oggi Un calciatore come Questo Scamacca All'interno del nostro contesto E sono contento Dalla parte rosico Da romanista Ma dall'altra In ottica nazionale italiana Cioè se questo è il vero Scamacca Io veramente stendo Il tappeto rosso A Gasperini Perché Ha tirato fuori Un attaccante Parte dalle capacità Balistiche Clamorose Dalle capacità Realistiche Realizzative pure Ma è un calciatore Completamente Diverso Da quei Per quanto poi Insomma A tratti ci ha fatto vedere Cose importanti in passato Ma questo è un attaccante Devastante Questo è un attaccante Che poi fa male Veramente a chiunque Te passa un vantaggio Copp Maners Quel gol del Scamacca Annullato Step on foot Giusto Ma se l'ha inventato Un gol pazzesco Noi e basta Poi te ne fa uno Ancora più bello Perché quasi Mi rovesciata Ragazzi è qualcosa Glamoroso Ma lì La Fiorentina Milenkovic Ragazzi è giusta L'espulsione Atterramento E via dicendo La bravura Però Può essere pure fortuna Perché sei costretto A levare un attaccante Levi i belotti Buttina la mischia Martina a squarta E dieci minuti dopo Forse anche Addirittura meno O poco più Ti pareggia una partita Gravi disattenzioni Difensive da parte Della Dea In quella situazione Non lo puoi lasciare Così solo Di colpire All'interno dell'area De rigore Sì il Milan-Inter Il Milan che te lascia Però l'ana sponda E controsponda Non te poi permette di Arrivati a quel punto Ragazzi ho cominciato A credere Che la Fiorentina Potesse effettivamente Portarla ai supplementari E chi lo sa Magari resistere Ipoteticamente Anche ai rigori Dove l'inferiorità numerica Non conta niente Per un attimo Ci ho pensato Vedica la verità Ma poi tra me e me Ancora continuavo a pensare A quei calciatori Là davanti A De Ketelar E a Scamacca De Ketelar Ci ha avuto un sacco Di situazioni Ribadisco l'Atalanta Ragazzi Il 4-1 Non è casuale Ci hanno avuto Tante occasioni Più della Fiorentina Dal momento in cui Passa a vantaggio All'Atalanta Secondo me Ha fatto molto meglio La Dea E meritava Di passare il turno Poi ribadisco L'inferiorità numerica È ovvio che Te toglie quel qualcosa Scamacca che si inventa Quel gol Se non sbaglio Proprio su assist Di De Ketelar E ragazzi Lì la partita Era in pari Cioè Lì la partita Era Tempi supplementari 90 Partita scaduta Fuorigioco Non fuorigioco Fuorigioco A me mi sembrava Fuorigioco Un presa diretta Lukman da subentrato Che viene Mi pare che subentra Al posto di Ederson Forse Non me vorrei Di una cazzata 90 più 5 E al 90 Più 7 90 più 8 Lukman Fa assist Per Pasalic Anche lui Subentrato Era lo stesso Slot di cambio Fatto Anche qui Per quanto poi Ribadisco L'inferiorità numerica Ha fatto sicuramente La differenza Ma la percezione Era che l'Atalanta La potesse vincere comunque Questi si portano a casa Una finale De Coppa Italia E la provocazione Che vi diceva Inizio contenuto Ve la dico adesso Fosse passata la Fiorentina Per la Juventus Sarebbe stata Secondo me Non dico Un'impresa facile Ma sarebbe stato Molto Molto Più facile Battere la Fiorentina Perché storicamente La Juventus La Fiorentina La batte molto più spesso Piuttosto che Questa l'Atalanta Speravo passasse L'Atalanta Non perché c'ho qualcosa Contro la Fiorentina Ma perché questa Credo che sarà Una finale Veramente scorticata La Juve Perché c'ha una storia dietro Seppur sta giocando male Ultimamente È un periodo abbastanza lungo Che sta facendo male Ma questa Atalanta Ragazzi Se è questa Veramente C'ha tutte le carte regola Che vince La Coppa Italia Per la Juventus Sarà veramente difficile Soprattutto Se rivedremo Sua partita secca Se rivedremo La Juventus Della partita Ieri sera Cioè Se rivedi la Juventus Della partita Ieri sera Sta partita Vince tanta poco L'Atalanta Secondo me E sarebbe clamoroso Qualora l'Atalanta Riuscisse a fare Una cosa del genere Ma ribadisco Sarebbe anche meritato Per il percorso A prescindere dalla Juventus Che comunque Arriva da un finale Io gli faccio Veramente gli applausi Applausi a entrambe Le compagini Perché la Fiorentina Merita rispetto Assolutamente Ma sta Atalanta Meritatamente Vola In finale De Coppa Italia E non vedo l'ora Di vedere sta partita Per capire Per cercare di capire Effettivamente Quello che potrebbe succedere Perché la palla è sferica E in una finale A partita secca Ragazzi Non ce n'è per nessuno Poi succede veramente De tutto Io vi ringrazio Per la visione Di questo contenuto E come sempre Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video